attenzione ragazzi ragazze 3 2 1 azione è stato bellissimo è stato bellissimo spero che Billy si diverta anche se sono solo due giorni va bene Charlotte mi raccomando fai la brada gli stai anche attenti è fuori città e dall'altra parte del ponte l'orologio nessuna traccia i 3 si no nessuna traccia sei tranquilla siamo qui per aiutarti lasciatemi stare dobbiamo portarlo al bar avverti Pai al bar al bar cioè quel macellai hai detto tu al bar dobbiamo portarlo a casa avverti Paiper scusa ma lo sai che quando cerchi un lavoro c'è sempre di mezzo la magia lo so ma ho tutto sotto poco non lo so tutto è successo quando ho toccato quello che mia sorella non è in grado di confidarsi con me e che per poter non riesco a farla mia sorella non sia in grado di confidarsi con me e non abbiamo ancora stupendo l'ha fatta Morgana ma non preoccuparti zia Charlotte è una ragazza molto caraggiosa e che lei forse romperà qualcosa per me sembra proprio che figli scusami dico c'è un motivo tu sei il motivo ogni volta che entri nella nostra vita porti solo da roba grazie join no 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 non è possibile usare la magia sono i demoni la usilo eh si è giocato Ho scoperto un modo per recuperare il medaglione quando ero con Tracy Ce l'avevamo sotto gli occhi e non ce l'avevamo in mente Cioè? Cole, fai come vuoi ma non entra al Charlie Eh, non entra al Charlie Dov'è Phoebe? Sono qui Questa storia è assurda Ma Phoebe, come fai se avete diventato una pianta? E dov'è che dovresti andare adesso? Sto con l'idea che non mi piacerebbe Io non miro il potere assoluto Le mie priorità Wow Non mi aspettavo una reazione così Un'accoglienza Cole, il calicchiuso Wow E' sempre così Da dove è il nipotino? Da il nipotino di Pai Sì per voi, sei così piccolo Ma così bravo Ma sì Sei solo un demone Ma sei bravo Ma io sono il calicchio 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 Facciamo scavare Muove la pianta E grazie a voi l'ho conosciuto Già Benvenuta nel nostro Devo spiegarmi Oh Non arriverò in tempo Partirò l'aereo No, non va bene Sono arrivata Ma cosa c'è? In caso non te ne fosse accorta Sei solo via due giorni? Eh, non si sa mai Oh cavolo Sì Hai ragione Dentro C'è un bel medaglio Sto Mi dispiace Non so riuscito a prenderlo È intervenuta una delle tre streghe Con il figlio Eh, non è È intervenuta una delle tre streghe Con l'aiuto della figlia di una Ecco Abbiamo 3, 2, 1 Azione Eh beh, oh Giusto 3, 2, 1 Azione